Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla decisione assunta dalla federazione italiana anti-racket e anti-usura di istituire a Gela la sede del coordinamento regionale della stessa federazione. Il presidente è stato nominato Renzo Caponetti dell'anti-racket Gaetano Giordano. Gela è sede dal coordinamento regionale delle associazioni anti-racket e anti-usura aderenti alla FAI. E' quanto deciso dai vertici nazionali della federazione. Il presidente del coordinamento è Renzo Caponetti che da anni presiede l'anti-racket Gaetano Giordano. La sua nomina è stata voluta dai membri soci fondatori e dal presidente onorario della FAI Tano Grasso, vicepresidente è Giuseppe Foti, segretario Nazareno Prinzivalli. Eliana Giudice è stata nominata componente del consiglio direttivo, mentre Paolo Caligiore è il presidente onorario. E' un prestigio per tutti i cittadini. Significa che l'associazione anti-racket è nata nel 2005, ha lavorato bene e ha dato i suoi frutti. L'Assemblea nazionale che abbiamo fatto sabato scorso ha votato all'Unione Milità la mia presidenza a coordinatore regionale appunto per i numeri che ci sono stati, per gli arresti e le operazioni eccellenti e la collaborazione, soprattutto hanno evidenziato, Tano Grasso ha evidenziato sabato scorso, la collaborazione fortissima che c'è con le forze dell'ordine. Adesso lei si occuperà di nuove province? Eh, diciamo, sono contento e no, perché il lavoro mi aumenterà notevolmente. Dovrò affrontare province tipo Trapani, nell'Agrigentino, quindi Favara, Pamolente Chiaro, zona del Catanese, zona dell'Ennese, insomma del Ragusano. Sì, è che ho curato io già negli anni passati le nostre zone vicine, tipo Ragusa, Vittoria, Niscemi, Troina, ma ora diventa un pochettino più complicata e diciamo sono anche io un pochettino perplesso. E lo sommegno quotidiano nel ricordo indelebile di Catano Giordano? E quella è la partenza, quello è il nostro orgoglio, avere Catano Giordano, che noi non è che lo ricordiamo solo il 10 novembre, noi lo ricordiamo tutti i giorni. Non c'è una conferenza, non c'è un incontro dove noi non parliamo sempre di Catano Giordano, sia io che Tano Grasso. A seguito degli ultimi attentati incendiari a Gela da più parti si invoca l'arrivo dell'esercito. Io sono contrario, per l'esercito sono contrario, l'ho detto anche diversi anni fa, parlo io del 2007-2008, sono contrario all'esercito. Per quel motivo? Basterebbero 10 poliziotti in più, 10 carabinieri in più, l'aumento dell'organico se necessario nella polizia municipale, e soprattutto, qualora ci fosse una mancanza di organico nella procura, è bene che venissero sostituti i procuratori da tutta l'Italia a riempire le sedi vacanti qui in procura. Dunque un noto assentivo all'esercito? Assolutamente no. Una busta con quattro proietti di calibro 38 indirizzata, l'assessore regionale al lavoro Gianluca Miciche è stata rinvenuta nella buca delle lettere della segreteria politica in via Angelo Lipani a Caltanissetta. La missiva conteneva il messaggio, questo è il tuo regalo di nozze, con i prossimi ti centriamo in pieno. L'episodio è stato denunciato alla polizia che ha assegnato la tutela all'assessore. A Caltanissetta si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per discutere della vicenda. Il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, esprime la propria vicinanza all'assessore Miciche. Nessuno pensi di intimidire o fermare l'operato di un governo che si batte per la trasparenza e la legalità, ha detto il Governatore. Solidarietà all'assessore Miciche è stata manifestata dall'Unione Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta e dal Presidente della Confcommercio Ascomogela, Francesco Trenito, dalla Giunta e dai componenti il Consiglio Generale. Nella ferma convinzione che atti simili non potranno cambiare la volontà dell'On. Miciche nell'agire per il bene comune e lo sviluppo economico della nostra Regione, la Confcommercio Ascomogela auspica una pronta risposta da parte delle Forze dell'Ordine. Cambiamo argomento. Le segretarie del settore metalmeccanico, FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will denunciano l'atteggiamento dei vertici Enimed in merito al controllo del flusso di mano d'opera e del relativo rispetto degli accordi sindacali che tutte le imprese dell'indotto sono chiamate a rispettare. L'accordo, dicono i segretari Gauci, Sardella e Calabrese, è sottoscritto da Eni ed ha valore su Enimed, raffineria di Gela e Sindial e prevede che ad avere priorità assoluta nelle assunzioni che le ditte fanno ad ogni aggiudicazione di appalto siano i lavoratori del bacino oggi in cassa integrazione, mobilità o disoccupati. Le sigle sindacali chiedono ai vertici Enimed la massima chiarezza per le corrette relazioni industriali la cui violazione sarebbe un atto grave ed irresponsabile. E adesso parliamo della giornata mondiale contro la violenza sulle donne presentata oggi a Gela, la tavola rotonda pari sensibilità prevista per sabato nei locali dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. È stata presentata questa mattina durante l'incontro con la stampa la tavola rotonda pari sensibilità promossa in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si darà sabato 26 novembre alle 11 all'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. Sarà un'occasione per lanciare un nuovo appello contro le prevaricazioni sull'assesso debole che a Gela trovano un valido strumento di contrasto nello sportello comunale Anghelas che ha saputo mettere in rete le migliori sensibilità del territorio. Lo dice l'assessore ai servizi sociali Ligia Abela. Sensibilizzare nuovamente l'opinione pubblica alle donne non solo sul tema della violenza, la violenza intesa non solo come violenza fisica ma come violenza anche psicologica, oltre che emotiva, oltre che economica. Dare alle donne la possibilità di, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, di poter uscire dall'impasse, quindi andare avanti e riconoscere questi momenti di violenza in maniera chiara per poter continuare ad andare avanti nella propria vita, quindi fare in modo che questi episodi siano semplicemente una breve contingenza della vita di ciascuna delle donne coinvolte per poi ovviamente continuare a poter andare avanti. Presente questa mattina anche il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Aja. Rilevando che lo sportello Angelas purtroppo non riesce a decollare come giusto merita, allora è necessario intraprendere una serie di iniziative non solo a livello di pubblicità mediatica ma a livello di contenuti, quindi attraverso queste tavole rotonde, degli incontri, quindi avendo dei contatti diretti soprattutto con i giovani, che sono il futuro di una cultura che deve essere basata sulla pare sensibilità. Questo è il titolo che abbiamo dato anche all'incontro del 26 novembre, pari sensibilità perché vogliamo che laddove vi siano qualunque tipo di difficoltà all'interno delle mura familiari, di non dover accettare e pensare che siano cose normali ma spingerli e dunque educarli a quella che è la denuncia chiedendo l'aiuto di un non supporto e di tecnici qualificati. Purtroppo questa è una tematica molto delicata, ma noi non demordiamo e abbiamo intenzione di intraprendere una serie di iniziative al fine di aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno per superare questo enorme problema. E in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il Comune di Gela, la libreria Mondadori e l'istituto scolastico Ettore Majorana organizzano per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre prossimi un'iniziativa che si darà nei locali di Palazzo Ducale alle 16.30 del 25.00 è prevista l'inaugurazione della mostra denominata Letteratura e Arte sabato 26 al Teatro Eschilo alle 10.30 e alle 20.30 si darà allo spettacolo l'urlo dei silenzi artisti contro la violenza sulle donne. Sono numerosi gli attori che saliranno sul palco la regia è affidata a Maurizio Nicastro hanno aderito all'iniziativa numerosi club service. Da due anni non si ricevono finanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione e soprattutto a Gela ci sono famiglie che non riescono ad acquistare libri per i propri ragazzi. L'istituto Ettore Romagnoli, sempre sensibile alle esigenze della collettività ha pensato bene di coinvolgere il Lions del Golfo di Gela e questa mattina, durante un incontro che si è svolto nell'ufficio di Presidenza è stata consegnata una somma in denaro per l'acquisto di 25 libri da dare in comodato d'uso a chi non è nelle condizioni di acquistarli. Noi siamo stati felicissimi di accogliere la richiesta fatta dalla dirigente Sandra Scicolone della scuola media Ettore Romagnoli e questa sul suggerimento anche di un nostro socio, il grandissimo Giorgio Vindigni che è stato molto sensibile alla tematica che ci è stata proposta si parlava di famiglie indigenti che purtroppo non avevano la possibilità di comprare dei testi dove studiare e come diceva la dirigente Pocanzi potrebbe essere questo anche un modo di discriminare purtroppo alcuni ragazzini che si trovano nel corso di studio e con un piccolo gesto, non vogliamo assolutamente dire che abbiamo fatto un grosso gesto un piccolo gesto, siamo riusciti a dare questo servizio di acquisto di questi testi. Un importante momento di collaborazione tra due realtà, scuola e club service che operano nella formazione e nel sociale a dimostrazione che in nome della solidarietà si può agire in concreta sinergia a favore dei più deboli. Con questa iniziativa altro si fa se non confermare un rapporto molto forte e molto concreto di collaborazione per venire incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione scolastica. La Romagnoli è impegnata su tanti fronti e il fronte che però sta forse più a cuore di chi opera all'interno di questa scuola è il benessere dei nostri ragazzi. Il benessere dei ragazzi può anche passare attraverso il possesso o meno di un libro. Il disagio che può determinare per un ragazzo la mancanza di un testo rispetto ai propri compagni può travolta essere foriero di elementi di grande allontanamento poi dal mondo scolastico perché il disagio dovuto proprio alla mancanza del sussidio didattico che poi non è una cosa così importante ma è importante ai fini della vita all'interno della scuola diventa veramente un elemento determinante. Allora venire incontro alle esigenze di alcuni dei nostri ragazzi con difficoltà su richiesta tra l'altro delle famiglie per noi non può che essere un motivo di gioia tanto più se determinato dalla collaborazione con un'associazione, un ente, un club service in questo caso che veramente si dimostra molto sensibile. A sole due settimane dal referendum si susseguono gli appelli per il sì e per il no. Domenica a Gela si è riunito destra in movimento illustrando le ragioni del no. A moderare l'incontro Francesco Minardi il quale ha aperto i lavori con un'attenta disamina sulle ragioni e le valutazioni che hanno introdotto il percorso verso il quesito referendario. A seguire le ragioni del no sono state illustrate da Angelo Cascino, Angelo Caffà, Massimiliano Falvo e Guilermo Piazza. Era presente tra i relatori anche il presidente del fronte giovanile e movimento giovanile di destra in movimento, Raffaele Docente, il quale ha dimostrato l'influenza che hanno avuto le lobby bancarie sulla proposta di riforma Renzi-Boschi-Verdini. A seguire sono intervenuti tutti i rappresentanti dei partiti e dei movimenti del centro-destra. Cambia la Costituzione tra dubbi e certezze? Il tema che sarà affrontato nell'ambito dell'attivo dei quadri della CGL è previsto per domani alle 9 all'Hotel Ventura a Caltanissetta. Introdurrà i lavori Ignazio Giudice, segretario provinciale generale della CGL Nissena. Interverranno Giancarlo Ferro, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania ed il magistrato Lidio Conti, concluderà Mimma Argurio della segretaria regionale generale della CGL Sicilia. Torniamo a Gela. C'è un problema che interessa i residenti e i commercianti di Via Licata nel quartiere Punte Vigne. Vediamo di cosa si tratta ai nostri microfoni. Oggi abbiamo raccolto la testimonianza di uno degli esercenti che ha la propria attività commerciale nella zona. È dal giorno 2 novembre che questa zona, Via Licata, è priva di telefoni e di ADSL. Pare che la ditta che ha proceduto a fare dei lavori per il passaggio alla fibra ottica abbia tranciato, almeno così dice Telecom, ha tranciato i cavi. Nonostante i nostri ripetuti solleciti verbali e telefonici, nonostante le nostre diffide, ancora oggi e a distanza di 20 giorni, le attività produttive di queste zone siamo prive di uno strumento che ormai è diventato indispensabile per poter stare aperti. Io mi chiedo, in un paese civile, in un paese normale, tutto questo è ancora possibile? E ancora di più, transitando per Via Licata ci sono le buche ancora aperte dove, non lo so, devono mettere dei tombini, non so cosa devono fare, creando un serio pericolo agli automobilisti. Io sono indignato come cittadino, sono indignato come operatore economico di queste città. Invito e ne faccio, approfitto dell'occasione della vostra gentile emittente, per lanciare un messaggio al sindaco. Sindaco, queste cose in un paese normale, in un paese civile, non dovrebbero essere possibili. In occasione del centenario della presenza dei padri passionisti in Sicilia, l'urna contenente il corpo di San Paolo della Croce, fondatore dei missionari della Passione di Gesù Cristo e delle monache claustrali passioniste, sta visitando la Sicilia. Lo straordinario evento ha coinvolto le città principali dell'isola e i luoghi dove sono presenti i padri passionisti. A Gela, l'urna del mistico della Passione arriverà domani alle 17.30 in Piazza Umberto I. Seguirà la solenne celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, presieduta da Don Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Armerina. Dopo la celebrazione, snoderà la processione con l'urna fino alla Chiesa di Sant'Agostino. Alle 21 inizierà la veglia di preghiera animata dai missionari passionisti. Giovedì 24 nella Chiesa di Sant'Agostino, alle 8.30 ci sarà la celebrazione eucaristica e la visita dei fedeli e delle scuole al Santo. L'urna con il corpo proveniente da Roma lascerà Gela alle 16 per raggiungere Butera. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recesi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, Escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentrovati, seconda parte del telegiornale, in occasione dell'anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU dei diritti dei bambini, venerdì 25 novembre prossimo alle 10.30, nei locali della scuola Nicola's Green di Via Tiziano a Gela, si trarà un incontro organizzato dal Kivanis Club e dall'Istituto Comprensivo Don Milani sullo status del minore straniero non accompagnato. Parteciperanno Pietro Carosia, comandante della Capitaneria di Porto di Gela, ed il tenente di Vascello Francesco Distria, capo servizio operativo della stessa Capitaneria, che relazioneranno sugli aspetti operativi e umanitari dell'intervento di salvataggio in mare dei minori stranieri. Il magistrato Lidio Conti, che interverrà sullo status giuridico del minore straniero non accompagnato nell'ordinamento giuridico italiano. L'avvocato Gaetano Dharma, consigliere dal Kivanis, che relazionerà sull'Istituto dell'Affido. E la dottoressa Maria Vassallo, responsabile del centro Tu Come Me di Gela, che parlerà degli aspetti organizzativi di una casa famiglia e sulle esperienze vissute. Firmata a Caltagirone la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, l'obiettivo è quello di fare rete tra gli enti locali che elaboreranno programmi di tutela del ricco patrimonio naturalistico presente sul territorio siciliano. I sindaci che hanno aderito, consapevoli dell'importanza della macchia mediterranea per l'ecosistema e la qualità della vita, si sono impegnati con questa carta a promuovere la conoscenza, la conservazione e la tutela nei territori da loro amministrati. La firma dell'atto è venuta in occasione della giornata nazionale dell'albero. Caltagirone con la sua frazione, il borgo e il bosco di Santo Pietro, ha colto immediatamente l'occasione e il valore della iniziativa, che poi si sia ripartiti in questa seconda fase proprio da Caltagirone dopo le iniziative adeguatamente e opportunamente assunte anche nel passato, e che quella del sindaco della città di Caltagirone sia la firma numero uno a sottoscrivere questo patto, tra tanti comuni saranno già una quarantina forse anche di più e poi associazioni, enti, pubblici, privati, il Parlamento siciliano, l'Assemblea regionale siciliana è davvero da sottolineare come un momento di particolare sensibilità. A Gela, ai Gelesi, non potevano mancare di approvare la propria firma su questo libro, dove ci poniamo l'ambizioso obiettivo di poter crescere in armonia con l'ambiente. A Gela non poteva mancare perché noi abbiamo delle unicità, abbiamo delle piante uniche come la Ginestra Bianca, la Leopolda Gussonai, ma abbiamo ancora di più un territorio estremamente vario, con un'importanza notevole anche a livello naturalistico, abbiamo il dovere di preservare per noi e per gli altri. Quindi una sinergia insieme a tutti, tra tanti comuni siciliani, oltre 40 già hanno deliberato per aderire, tante associazioni, tante forme associative di vario genere che hanno voluto di fatto condividere l'unico obiettivo. L'iniziativa è partita da due centri di educazione ambientale, il centro di educazione ambientale di Messina e il centro di educazione ambientale del Ramarro a Sicilia, che insiste e lavora sulla terra di Caltagirole, sul bosco di Santo Pietro, che è un esempio, diciamo, importante di macchia mediterranea, sul quale si vuole costruire tutto un percorso educativo a 360 gradi che investe tutti. La tutela è dettata dalla necessità di attuare una selvicoltura di prevenzione per fermare lo sfruttamento antropico, contrastare gli incendi prevalentemente dolosi e gli abusi legati al pascolo. Ultimo appuntamento con la rassegna Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela, col patrocinio della Regione, del Comune e del Museo. Sabato 26 novembre alle 19, nei locali del Museo archeologico regionale, al Resital del chitarrista Massimo Martinez. Interventi a supporto della nascita di nuove imprese, all'innovazione tecnologica, sostegno alla competitività tra imprese, promozione dell'export e incentivi a supporto dell'internazionalizzazione, aiuti per investimenti su macchinari ed impianti per processi di ristrutturazione aziendale. Queste alcune delle azioni che saranno possibili grazie al programma operativo FESER Sicilia 2014-2020, illustrati dall'assessore regionale alle attività produttive, Mariella Lobello, che ha voluto incontrare all'IRSAP della zona industriale di Caltanissette gli imprenditori, gli ordini professionali e le associazioni. Un momento di confronto e dialogo, quello promosso dall'assessore Lobello con le imprese, elemento fondamentale per la crescita dell'economia dell'isola, come sottolineato nel suo intervento, anche se molte imprese sembrano non aver risposto all'invito. Oggi presentiamo i bandi, ma presentiamo insieme ai bandi tutta la programmazione che riguarderà i prossimi sette anni. Il presidente Crocetta ha finalmente varato il patto per il Sud, il patto per la Sicilia, come sapete sono 2 miliardi e 3 ai quali si sommano i fondi della programmazione europea, che non è semplicemente il FESER, non dobbiamo dimenticare che complessivamente ci sono in agricoltura 2 miliardi 120, ci sono per la pesca 117 milioni, ce ne sono 820 per il Fondo Sociale e poi ci sono più di 4 miliardi per quanto riguarda il Pio FESER, che poi riguarda che cos'è il Pio FESER, se non una serie di interventi, sono complessivamente 11 obiettivi tematici che riguarderanno gli aiuti alle imprese, la tutela del territorio, la qualità dell'aria, le infrastrutture, insomma riguardano un po' quindi ambiente, territorio, infrastrutture, riguardano più o tutto riguardo all'edilizia scolastica, riguarderanno il completamento di tutte quelle opere o in qualche modo anche la realizzazione di tutte le opere che hanno proprio come obiettivo un cambiamento della Sicilia perché non dobbiamo dimenticare la Sicilia non è nuova ad avere ingenti risorse, però se noi dovessimo dire cos'è che queste risorse hanno lasciato sul nostro territorio dovremmo dire che ne ha lasciate ben poche di opportunità. Noi vorremmo invece che questa nuova programmazione possa finalmente dare al nostro territorio quella occasione di riduzione vera della differenza che c'è tra noi e gli altri. D'invonto i fonti europei servono proprio a queste ed è per questo che alle regioni del sud finiscono con l'essere destinate risorse maggiori, proprio per diminuire questa differenza. Sitarà giovedì 8 dicembre in Piazza Umberto I a Gela. La manifestazione Corri con Papà Natale 2016. L'appuntamento è previsto per le 9.30. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti in collaborazione con il comitato locale Unicef, la Croce Rossa, la protezione civile e l'Igio Soccorso e col patrocinio del Comune. L'evento rientra nel progetto di educazione alla salute, sport ed ambiente che ha la finalità di promuovere l'attività motoria in età evolutiva. Per informazioni ed iscrizioni c'è un numero telefonico 347 57 99 271 lo ripetiamo 347 57 99 271 Appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in progettazione il film Ti amo Presidente sono due gli orari, 19.30 e 21.30 e domani ricordiamo che comincia la stagione teatrale alle 21.30 è prevista l'esibizione di Pippo Franco in Svalutation lo spettacolo sarà ripetuto il giorno dopo sempre alla stessa ora. Abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni. grazie per averci seguito